Canale YouTube di Luigi Gaglio L'Unione Economica e Monetaria e l'Euro UEM Unione Economica e Monetaria Oggi parliamo di questo Un po' di storia Ragazzi, ieri abbiamo già fatto un po' di storia dell'Unione Europea Il 57 è un anno fondamentale Dopo il Trattato di Parigi che aveva, vi ricordate, fondato la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio Economica, insomma, del Carbone e dell'Acciaio Nel 57 si trovano a Roma, il Trattato di Roma Pensate che un anno e mezzo fa abbiamo proprio celebrato i 60 anni del Trattato di Roma Si è pensato alla Comunità Economica Europea Alla CE in quel Trattato di Roma Il Mercato Comune Europeo Il Trattato di Roma è stato fondamentale per quanto riguarda l'economia Perché si è creato, come dicevo, la Comunità Economica Europea La CE, il Mercato Economico Europeo Insomma, questo trattato basava la ricostruzione dell'Europa Sul graduale sviluppo di un mercato comune senza frontiere Sulla libera circolazione di beni, servizi, persone e capitali Poi, altro passaggio importante Nel 79 si è creato lo SME Il Sistema Monetario Europeo Un precursore dell'Unione Economica e Monetaria Introdotto per stabilizzare i tassi di cambio Limitare le fluttuazioni valutarie tra paesi E contenere l'aumento dei prezzi Qua ci sono i stati firmatari Per esempio, sono i famosi sei stati Da qui è nata l'Unione Europea L'abbiamo visto già ieri Italia, Francia, Germania Belgio, Lussemburgo Belgio, bravissimi Il 7 febbraio del 92 Ne abbiamo già parlato E l'avete fatto oggi anche in un'altra materia Il trattato di Maastricht Che sancisce l'avviamento dell'Unione Economica e Monetaria Oggi focalizziamo la nostra attenzione Dicevamo, sull'Unione Economica e Monetaria Che è stata avviata proprio con il trattato di Maastricht Insieme, ricordate, i tre pilastri L'obiettivo era completare il mercato unico E istituire la Banca Centrale Europea Il trattato prevedeva inoltre L'introduzione di una moneta unica europea L'euro Il primo gennaio del 2002 Quindi sono passati dieci anni Finalmente l'euro entra in circolazione In dodici paesi dell'Unione Europea Belgio, Germania, Spagna, Francia, Irlanda, Olanda, Austria Portogallo, Finlandia, Lussemburgo, Italia e Grecia Era stato introdotto per le transazioni finanziarie e commerciali Nel 1991 e nel 2001 in Grecia Gran Bretagna, Svezia e Danimarca Non introducono l'euro Non aderendo all'Unione Monetaria A quell'epoca l'Europa era di 15 stati Di questi 15 stati 12 adottarono l'euro E 3 no Perché ritenevano che l'adozione di questa moneta Avrebbe penalizzato la loro economia Ma adesso parliamo dei svantaggi dell'euro Ecco la data di ingresso nell'area dell'euro Abbiamo già parlato dei 12 paesi Attenzione però che nel 2007 si è giunta la Slovenia Nel 2008 Cipro e Malta 2009 la Slovacchia 2011 l'Estonia 2014 la Lettonia 2015 la Lituania I paesi invece dell'Unione Europea Che non utilizzano l'euro Oltre a quei primi 3 Vi ricordate che non avevano adottato l'euro Che facevano parte dell'Unione Europea Negli anni 90 Cioè Svezia, Danimarca e Inghilterra Si sono aggiunti anche la Bulgaria La Repubblica Ceca La Croazia, l'Ungheria La Polonia, la Romania E la Romania Come paesi che sono dell'Unione Europea Ma non adottano l'euro Sappiamo infatti che adesso i paesi dell'Unione Europea Sono arrivati fino a 28 Anche se 28 meno 1 Perché l'Inghilterra sta uscendo dall'Unione Europea Il patto di stabilità Attenzione se abbiamo deciso Se abbiamo adottato una moneta unica Dobbiamo attenerci anche a certi criteri Ecco perché insomma siamo appunto dicevamo Tanti paesi Che hanno adottato questa moneta Dobbiamo fare in modo ad esempio Che non ci sia un debito pubblico eccessivo Perché quello che avviene in un paese Si ripercuote anche sugli altri paesi Il deficit pubblico È l'ammontare della spesa statale Non coperto dalle entrate in un dato anno Cioè praticamente è una specie di gap Fra entrate e uscite Il patto di stabilità e crescita Impone ai governi di assicurare Che ogni anno il loro deficit Non superi il 3% Della produzione annuale complessiva O prodotto interno lordo Cioè non si può fare Superare del 3% Il deficit tra prodotto interno lordo E appunto deficit pubblico Debito pubblico Il debito pubblico è che cos'è? In realtà è la somma dei deficit pubblici Degli anni passati Qui abbiamo visto che abbiamo fatto un discorso Anno per anno Se facciamo invece Il deficit pubblico è annuale Invece il debito pubblico È la somma dei deficit pubblici Degli anni passati Purtroppo noi resentiamo Di un debito pubblico esorbitante Perché Assommiamo tutti i deficit annuali Che sono stati consistenti Perché abbiamo Una spesa pubblica notevole Il debito pubblico di un paese Corrisponde quindi al debito accumulato Nel corso dei diversi anni Il patto di stabilità e crescita Impone ai governi Di garantire che il loro debito Non superi il 60% Del prodotto interno lordo Quali sono i vantaggi e gli svantaggi Dell'euro? Allora i vantaggi sono L'unione economica monetaria Rafforza l'euro È una moneta forte Sul mercato internazionale L'unione economica monetaria Infine garantisce la stabilità Dei prezzi Promuove la crescita economica Inoltre l'euro è molto pratico Per i cittadini Pensate per esempio Ai cittadini europei Che si devono spostare Da un paese all'altro Se hanno l'euro in tasca Non hanno bisogno Di andare a cambiare la valuta Poi l'euro aiuta le imprese È un protagonista Sulla scena mondiale È il discorso che abbiamo fatto Un po' ieri L'unione fa la forza Di fronte ad altri colossi Internazionali Come gli Stati Uniti Il fatto di essere insieme Aumenta diciamo Le possibilità Ma ci sono anche degli svantaggi I problemi di un paese Si ripercuotono sugli altri membri Ecco perché è stato fatto Il patto di stabilità Perché se abbiamo un deficit pubblico In un paese Ne risente tutta l'area L'area dell'euro I paesi aderenti Non possono permettere Al debito E ai deficit Di accumularsi A tempo determinato Non ci si può permettere Di non correggere Le divergenze economiche Tra i paesi Dell'Unione europea In termini di crescita E di competitività Non si può Temporaneamente Compensare Una perdita Una perdita Scusate Di competitività Facendo ricorso Alla svalutazione Della propria valuta Ah Quando non c'era l'euro E c'erano Delle perdite Di competitività Intendo dire Nel mercato globale Quando c'è Tanta competizione Che cosa facevano I governi Quindi Si trovavano svantaggiati Nel vendere Per esempio Le automobili italiane Piuttosto che Gli elettrodomestici I governi Svalutavano La moneta Per esempio Si svalutava La lira E questo però Permetteva Sul mercato internazionale Di essere competitivi Perché noi Producevamo delle cose Che poi riuscivamo A vendere Sul mercato internazionale A un prezzo inferiore Rispetto ad altri paesi Questo non lo si può più fare Nel momento in cui Abbiamo adottato Una moneta unica Chi gestisce L'unione economica E monetaria Beh insomma Il consiglio Dell'Unione europea Con sede A Bruxelles Anzitutto Gestisce Questa Unione economica Monetaria Soprattutto quando Si riuniscono I ministri Dell'economia E delle finanze Di tutta Europa Quello è proprio L'abbiamo visto Cos'è il consiglio Dell'Unione europea È composto È composto dai ministri Degli stati membri E quindi di volta in volta Si decide Se si tratta di economia Si convocheranno I ministri dell'economia Se si tratta di ambiente Invece si convocheranno I ministri dell'ambiente Poi il Parlamento europeo Per via delle proposte Di legge Del Parlamento stesso Della commissione I regolamenti Le direttive Le decisioni Che vengono prese In ambito europeo Possono avere Delle ripercussioni Anche nel campo economico La commissione europea Praticamente La commissione europea È il governo Dell'Europa È l'organo Esecutivo Dell'Unione Ovviamente c'è un commissario Preposto all'economia Quindi importantissimo Su questi aspetti Queste sono invece Le altre istituzioni dell'Unione L'Unione economica monetaria Nel futuro Sebbene siano stati compiuti Importanti progressi L'Unione economica monetaria Non è ancora completata Un'Unione bancaria Con un rigoroso controllo Sui mercati finanziari E le banche Le norme Risorse comuni Per venire incontro Gli istituti di credito In difficoltà Questa è una prospettiva È una cosa ancora da realizzare Che non è stata ancora realizzata Un'Unione economica più profonda Per sostenere l'Unione monetaria Con investimenti mirati Per promuovere la crescita La competitività E per rafforzare la dimensione sociale Un'Unione fiscale Che garantisca le finanze pubbliche sane Rafforzi la solidarietà finanziaria Tra i paesi in tempi di crisi Ebbene questi sono degli obiettivi Ancora da raggiungere Che non sono stati ancora raggiunti Nel 2002 è stato adottato l'euro Nel 2008 è scoppiata una crisi economica mondiale Una decina di anni dopo L'entrata in vigore dell'euro È arrivata la crisi in maniera gravissima In Europa Con il crollo finanziario Con la crisi greca Poi c'è lo spread Il differenziare tra il valore dei titoli pubblici Ad esempio dell'Italia Rispetto alla Germania Il deficit che continua ad aumentare Le cause principali Sono lo scoppio di bolle speculative E il forte rallentamento economico Tutto questo ha messo in crisi anche l'euro È aumentata la disoccupazione Lo sappiamo anche in Italia La disoccupazione in Spagna e Grecia Ha raggiunto dei livelli ancora superiori Rispetto all'Italia La recessione Specie per i paesi meno sviluppati Siamo in una fase di recessione Il rischio del collasso bancario Il debito pubblico di alcuni stati Tra cui l'Italia È tuttora elevato Ci troviamo di fronte quindi A grossi interrogativi C'è di fatto anche una critica Che viene posta all'Unione Europea Dal punto di vista economico La critica è la seguente In fondo sono pochi i paesi dell'Unione Europea Che possono decidere Le politiche estere E anche le politiche economiche Nel caso della guerra in Libia Politiche estere Francia, Germania e Regno Unito Per le politiche estere Poi le politiche economiche Si incolpa la Germania Di essere un pochettino troppo protagonista Da questo punto di vista Di fronte a queste sfide Possiamo dire semplicemente Che vogliamo Come dire Raccogliere, continuare A credere In questa unione Anche in questa unione monetaria Perché siamo convinti Che attraverso questo Si possano raggiungere Degli obiettivi E dei risultati importanti Altri video didattici Su A tuttascuola.it A tuttascuola.it A tuttascuola.it A tuttascuola.it A tuttascuola.it Grazie a tutti.